L'ondata di calore da bollino rosso che persiste da una settimana sta facendo impennare gli accessi ai pronto soccorso. 400 alla San Salvatore di Pesaro nell'arco di tre giorni, altrettanti al Santa Croce di Fano. Si tratta per lo più di codici di lieve e gravità e sui quali anche le farmacie comunali di Pesaro hanno avviato una campagna ad hoc per quel che riguarda la protezione dai colpi di calore, fra consigli utili e scontistiche su prodotti specifici. Abbiamo visto che c'è tanta gente, comprese soprattutto le fasce più deboli della popolazione che dal calore ricevono più problemi che la stanno affrontando prendendo i prodotti che come farmacie comunali abbiamo messo in sconto proprio per cercare di venire incontro, per affrontare al meglio le problematiche. E' proprio di oggi che è uscito un grido d'allarme del pronto soccorso di Pesaro per le tante persone che per causa del caldo si rivolgono alla struttura. Quindi se prima di arrivare a situazioni complicate e difficili si passa in farmacia e si prova a capire anche come poter affrontare al meglio per il calo che si può avere di pressione o rispetto a alcune situazioni probabilmente riusciamo anche a dare una mano alle strutture ospedaliere ad evitare gli intasamenti e a creare problemi poi per le attese. Problemi per le categorie fragili, problemi per i lavoratori. Oggi GDL, Cisle e Will hanno sollecitato la Regione Marche all'emissione urgente di un'ordinanza che prevede la sospensione del lavoro nelle ore più calde per le attività lavorative all'aperto. In particolare i sindacati invocano il divieto dei lavori nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei giorni catalogati ad alto rischio. All'AFA poi si accompagna l'assenza di precipitazioni che tiene sull'allerta tutto il sistema di approvvigionamento idrico. Da domenica scorsa a Pesaro è infatti in vigore l'ordinanza comunale per un uso razionale e responsabile del consumo d'acqua. A cittadini, va detto la verità, la situazione è un problema. Ovviamente questo non vuol dire che domani mattina non abbiamo più l'acqua, però vuol dire che l'ordinanza non è finta, è un'ordinanza che ordina e invita da un'altra parte per altre cose i cittadini a far sì che capiscono che l'acqua è una risorsa che non è infinita, ma una risorsa che ha un limite, quindi una risorsa che può finire, una risorsa che va trattata come risorsa importante e che quindi non va sprecata. Fra le accortezze consigliate anche quelle di dotarsi di sistemi frangigetto che consentono di dimezzare il consumo idrico. Molti cittadini ce l'hanno, chi non ce l'ha invitato a metterlo nei propri rubinetti, ma un invito che faccio alle strutture recettive, ma soprattutto anche agli operatori balneari, perché anche qui ho visto che nonostante l'ordinanza, ad esempio domenica, la gente faceva le docce 4-5 volte in una giornata e c'era la fila di centinaia di metri. La doccia ovviamente al mare va fatta, ma va fatta innanzitutto non stando sotto l'acqua un paio di minuti, ma cercando di stare il minore tempo possibile, ma sapendo che l'acqua è un bene prezioso e quindi per questo ho convocato per la prossima settimana insieme al prefetto di Pesaro un incontro con tutti gli enti coinvolti per capire come riuscire a pulire i bacini che potrebbero consentire una maggior risorsa della risorsa idrica, che appunto è strategica ed è importante.